2 novembre 1975 ore 7 e 10 la voce di ali il mio fotografo preferito è impastata di sonno come quella di mimmo più disponibile ma meno esuberante ti pare ora di chiamare rispondono allo stesso modo io sono ormai sveglia e categorica c'è un cadavere all'idroscalo capiscono e si sbrigano senza fotografo non si va da nessuna parte e stavolta preferisco averne due ne vale la pena me lo sento bisogna fare in fretta fra due ore l'edizione del pomeriggio gira se c'è la foto c'è la prima pagina corro giù per le scale prego tutti i santi che la macchina parta ho una 600 vecchio tipo porte antivento si aprono come quelle dei camion l'ho comprata a rate da un carrozziere di fiumicino va praticamente ad acqua ogni 10 chilometri il radiatore bolle e io giro con la tanica il carrozziere mi ha un po truffato ma è solo il più veniale dei suoi peccati ce ne sono di più gravi saprò fra qualche anno e finirà ammazzato uno dei tanti morti della banda della magliana va 600 parte per fortuna corro verso l'idroscalo mi attacco alle macchine del commissariato hanno le sirene spiegate da roma la mobile ancora non si è mossa e neanche le pattuglie dei cronisti d'assalto è il mio momento ho quasi un'ora di campo libero le fotografie erano un'ossessione bisognava averne tante interessanti possibilmente diverse da quelle di tutti gli altri si racconta anche con le immagini asseriva il mitico principe stefano petrovice grande redattore capo e grande grafico è ancora sulla breccia e ancora considera una fotografia senza significato spazio sprecato ogni scatto una notizia era l'ordine per capire bisogna rimandare la memoria a che cos'era il mondo dei quotidiani romani e dell'informazione in generale nel 1975 i giornali erano cinque il messaggero leader da sempre della piazza capitolina il tempo diretto allora da gianni letta prediletto dal pubblico conservatore di destra paese sera il fiancheggiatore del pc tre edizioni al giorno l'unico al mondo il mio mondo il giornale d'italia e il momento sera quotidiani della sera a diffusione cittadina poi c'era l'unità un caso a parte la repubblica sarà fondata il 14 gennaio 1976 senza cronaca di roma il corriere della sera sbarcherà anni dopo emittenza nel 1975 era più o meno un desiderio la rai aveva due reti le radio private erano agli albori mitici esperimenti celebrati nel 2005 con giustificati orgogli trentennali televisioni private neanche a parlarne per vedere qualcosa di prodotto fuori da viale mazzini bisognava sintonizzarsi su tele monte carlo tv svizzera e tv capodistria ecco perché erano importanti le foto mostravano e diffondevano quanto altrimenti non sarebbe stato visto dai più